Piano Comunale per il diritto allo studio, ok, i regolamenti interni, K.O. Sono i due argomenti principali discussi ieri sera dal Consiglio Comunale di Trecchina, convocato dal Presidente del Civico Consesso, Francesco Alagia. Assemblea che ha registrato l'assenza del consigliere d'opposizione, Francesca Dall'Asta, del gruppo per Trecchina. Dopo aver approvato i verbali della seduta precedente, si è passati al Consiglio vero e proprio. Se la discussione del Piano per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2012-2013 ha visto convergere i voti della maggioranza consigliare e del gruppo di minoranza la libertà e partecipazione, la stessa cosa però non può dirsi dell'adozione del regolamento relativo al sistema dei controlli interni. In sostanza si è trattato di rafforzare il monitoraggio sugli atti amministrativi, il tutto in linea con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali e dalle norme in materia di enti locali. Il mio gruppo, la libertà e partecipazione, ha fatto sapere Rita Carmela Cantisani, si è astenuto dal votare il punto relativo al sistema di controllo sugli atti, poiché carica di ulteriori responsabilità al segretario comunale, già legato da un rapporto fiduciario con l'amministrazione. Pertanto, ha spiegato, lo stesso funzionario dovrebbe avere più autonomia rispetto all'indirizzo politico, ciò non esclude la nostra sintonia con il legislatore. Fabio Marcante, assessore all'urbanistica, in rappresentanza della maggioranza, ha difeso quanto votato dai colleghi. Si tratta di nuovi poteri per il segretario, ha commentato, e se il legislatore ha ritenuto di poter affiancare al sindaco una figura che lo orienti, non riscontro nulla di anomalo come invece fatto dalla minoranza. Sull'ultimo argomento, come detto, c'è stata la condivisione tra le due anime del Consiglio. Riteniamo fondamentale la formazione culturale a favore dei giovani, ha detto Rita Cantisani. Per questa ragione abbiamo promosso il provvedimento dell'esecutivo. Per lo stesso motivo, poi ha precisato, rileviamo che nel profilo economico della misura andrebbero apportati dei correttivi per maggiorare gli investimenti. L'esponente dell'Aggiunta Iannotti, Fabio Marcante, ha riconosciuto l'azione positiva effettuata dall'opposizione. C'è stata la condivisione su un tema rilevante per le nostre attività comunali e per la nostra comunità.